Allora signore, mi fai parlare? Sergio Galantini è giustificato a me di Bilerio alto perché basta, sta qui con noi preparando la sei l'ultima, ci chiediamo scusa, chiediamo scusa se ho dovuto scattare qualche serata, è capitato anche a te che sei un professionista, io sono un lobista, mi capita, c'è la mia premura, mandare questo video che mi giustifica come a scuola, sta con noi e non sei solo. Il prossimo spettacolo non vorrà soldi, vero? No, poi per quello che chiedo, ma comunque non vorrà soldi e se li vorrò sapete che io li da tutti in beneficenza perché come dico io, une robe vergognosissime, devi dirle, una roba vergognosissima, una roba vergognosissima, una roba vergognosissima, ah che è la tua associazione, no, sì sì, no, 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 l'ho letta questa cosa, bravissimo, è l'unerore, tu dai in beneficenza, ma la cosetta rietta pure per te, no, hai avvisato? No, no, ma una parte, no, chiaro. Che parte è percentuale? Non posso dire, e con questa bella immagine... Ma io voglio sapere perché... Adesso chiudo e ti dico tutto. Un abrazo, ciao a 2%. Grazie, ciao a tutti.